Buongiorno padre, vieni con me Qualcosa non va? Credi che io sia cieco e sordo figlio? So tutto della tua scaramuccia con bieri dei pazzi di questa notte Eppure della visita a Cristina La tua condotta è inaccettabile Mi... Mi... Mi ricorda me quando avevo la tua età Spero che queste distrazioni non interferiscano col tuo lavoro di oggi No padre, avete la mia parola Ho preparato qui dei documenti per il signor Lorenzo de' Medici Ho bisogno che glieli consegni Vado subito padre Una volta fatto torna da me Cipolle, aglio, porri e scalogno Bitello, maiale, tutto freschissimo Qualità eccessa a prezzi contenuti A tutti i membri dell'arte della seta Padate ai minerali grezzi dell'ultimo carico del mercante Molti infatti ne hanno ricavato meno bronzo del Cristo Dice che qualità è questa La, addosso Dai, ci hai provato Levatemi di mezzo Non te ne andrai così Vergogna, razza di piani Meglio di puttana, ma dov'è Attenzione! Ezio! Per cui funzionerò Una compagnia di mercenari Stazionerà nei campi a nord ovest della città Ah, Ezio Ben trovato Come state? Come sempre Ho una lettera per Messer Lorenzo Gliela farò avere quando sarà di ritorno Di ritorno? Sono andati alla villa di Careggia e me Non faranno ritorno prima di un giorno almeno Riferirò a mio padre Scenario Dove l'ha proposto? Non è certo un tipo di mito, mi pare La città ha saggiamente incrementato l'imposta nominale Sulle esportazioni registrate da una qualsiasi delle arti maggiori Cipolle! Cipolle, aglio, porri e scalogno! Bravo, datti da fare Bischero! Ti preoccupi per noi Salute figliola Ricordi il mio amico Berti? Buongiorno, gonfaloniera Alberti Buongiorno a te, giovanotto Hai consegnato il messaggio? Sì, padre Ma pare che Lorenzo sia fuori città Questo non l'avevo previsto Che cosa importa? Dovrai solo aspettare un paio di giorni Ascolta, tua madre e tua sorella ti stavano cercando Avrò ancora bisogno di te più tardi Ma per adesso vedi se puoi aiutare loro Siete sicuro? Sì, ora, se vuoi scusarci È stato un piacere, Ezio Sì, ora, se vuoi scusarci